Ciao a tutte ragazze, oggi siamo state da Mini Show, abbiamo preso tutte queste cose, ve le facciamo vedere dobbiamo prendere un regalo per compleanno di un'amichetta di Angelica, l'abbiamo preso dopo lo specchiettiamo ve lo facciamo vedere, intanto Angelica vi vuole far vedere lei che cosa ha acquistato per lei quindi lei cedo il posto, io sotto voce, sotto, ma è sotto, ci sono io che vi dirò i presti ciao a tutte ragazze, scusate per l'inconvigliamento vengo da scuola e avevo la felice, quindi dai allora, iniziamo, siamo andati da Mini Sonno, che mi sa che ve l'ha già spiegato la mia mamma allora, questo qua sarebbe una cosa per la mia scrivania, allora, ha ben due te lo tengo su io, che glielo fai vedere, dai, spiega, fai lì vedere è un organizer per la scrivania, ci sono i cassettini, fai vedere che apri i cassettini abbiate pazienza oggi, eh, perché qui oggi c'è il felice, c'è già la venata ho ovviamente due cassettini, due cassettini, e poi sopra, ecco, già riscassato per la seconda volta ancora l'hai perso ragazze, è già due volte, ecco, è già due volte che registriamo questo video, dovete sapere ma lei ogni volta, cazzarolla, passatemi il termine, mi perde un pezzo allora, io non so come l'abbiamo progettato sto coso, e ci metteremo un po' di scotch perché questa benedetta, cosa, scatolina, non sta, perché aspettate un attimo, aspettate un attimo, adesso vi spieghiamo, ecco, praticamente, fatti vedere pian piano, si apre, qua ha due pezzettini, viene via, o è fisso? due, è fisso, ci sono due, due ripiani, come posso chiamarli, due scomparti e uno grande sopra, non so se con la luce riescono a vedere, ecco, qua dentro, quindi questo fa questo discorso salta sempre via la vite, quindi adesso te la vado a fermare io, e qua ci sono due cassettini questa va sulla sua scrivania, per mettere le sue cosine, e costa, non si può parlare in due contemporaneamente, 8,99, prendi fuori un'altra cosa e poi avevo preso un'altra cosa carina ecco, dai ah vabbè scusate, allora questo qua sarebbe un mini cassettino sì prima di coniglietto qui su come vedete ci potete tipo mettere il rossetto così perché hai dei buchi parla forte se non ti senti perché hai dei buchi in realtà questo qui serve per impilare gli altri fatti uguali perché sotto ci sono, aspetta che se non spara flash, ecco, sotto ci sono queste specie di piedini e tipo vedete questo e così sono incilabili perché è uguale a questo portoggetti è un cassetto portoggetti così ok, la sua testivania questa era in offerta, costava 4,99 scontato del 50% ma me l'ho già tagliata quindi l'abbiamo dopo ti disinfetto l'abbiamo pagato 2,49 euro e ora non si comincia tutto con roba di scuola ma con un pozzettino quindi di roba di bagno abbiamo preso questo simpaticissimo asciugamano così non riesco a capire che quanto custa io voglio bene a tutti ovviamente ecco, è il towel 3,99 euro praticamente va agganciato così in bagno qui c'è questo cuoricino con le ali qui c'è l'asciugamanino quindi appendendolo dopo lei non lo stacca ma ci va vicino e si asciuga le manine lo abbiamo allora questa cosa non è una cosa che c'entra di roba di scuola ovviamente questa qua è roba di mia mamma che sarebbe una maschera che qua c'è il misurino che sarebbe si scioglie con l'acqua abbiamo capito si sta scaricando la batteria qua c'è il copertetto che sarebbe tu l'apri nel vasettino la metti in acqua aspetti due minuti che si scioglie perché dentro alla cosa c'è una cosa che ti rompete sono delle maschere praticamente questa la posso spiegare io che è mia sono delle compresse di maschere naturalmente non sono imbevute di niente c'è questa qua dentro c'è una specie di ciotolina dove dentro va messa una di queste maschere che ha contatto con un liquido con un siero o quello che volete si disfa e diventa proprio la propria maschera così che potete imbevire con il siero o il liquido o il tonico quello che preferite di più io lo utilizzerò per oltre il sole poi vi faccio sapere 3,99 euro allora poi ho preso questo simpaticissimo bicchierino che si beve e della BPA Free BPA Free? cosa vuol dire BPA Free? penso che sia di una plastica apposta per i bambini sì è una plastica apposta che non rilascia con tanto sostanze necive e con tanto con l'acqua che non siano tipo che ho detto sono sporche invece questa qua non rilascia lo sporco allora questa qua è simpatico perché a parte qui sotto ci sono i brillantini e se tu le scuoti qua ci sono degli alberini questa 8,99 praticamente è una plastica qua sotto vedete ci sono i brillantini fatelo a dove abbiamo la scuotete e ci sono i brillantini i brillantini in più ci sono gli alberini che galleggiano sì qua degli alberini più c'è si apre vabbè si apre perché c'è la si apre e si può riempire e si può riempire e c'è effetto liquido vedete anche se non c'è l'acqua dentro aspettate che devo recentrare il buco è video faticoso sapeste c'è sembra che ci sia l'acqua dentro in realtà l'acqua non l'abbiamo ancora messa ma è nel carpa pedede tra l'uno e l'altro poi c'è il poca che annuncia questo ha detto che se lo porta e questo te lo tieni in casa giusto? sì poi muovendolo vedete ci sono tutti i brillantini che scendono vi assicuro che dal vivo è molto molto più bello rispetto al video in BPA free questo bicchiere lo terrò su ho già cambiato idea e questo qua simpaticissimo sempre questo qua della BPA free BPA free anche questo viene 8,99 anche questo bicchiere e c'è qua un arcobaleno dove c'è l'arcobaleno? qua si c'è qua si svita per metterci l'acqua lì c'è svita così è trasparente ha tutte queste palline che in realtà credo che stiano ferme lì sì e questo è carino good mood che vorrebbe dire tipo che si era positivo sì che poi ci bevi vuoi in proposito una roba del genere il rainbow mi viene in italiano l'arcobaleno e la sua cannuzza con una nuova sportina carino anche questo in BPA free e questo è molto più bello dal vivo mi dispiace non si deve rompere ecco questa l'apro io tanto ormai tu l'hai già sbarellata fammi segnare lì ora ovviamente lascerò al postale la mia mamma perché si scassa il radio sicuro con me eccoci qua allora questo è il regalo ha già scassato la sporta quindi dopo vedrò di sistemarla vediamo se riusciamo a aprirla senza no ormai l'hai già scassata dopo la cambiamo la sistemiamo un attimo allora ha scelto Angelica i regali per questa bambina sono due in realtà io ne ho aggiunto un terzo poi vi faccio vedere allora ha scelto questo blocco la bambina ma scendo un attimo che fatica allora questo è il primo e ultimo video ci siamo già capiti allora questo è un blocco fatto a che animale sarebbe sto qua fammi vedere ha un coniglietto che è dentro ha un coniglio sì che è dentro una bacinellina con le fragoline è un gatto per me va bene non lo so cos'è a forma di sta cosa si questo qui è una penna direi e qui c'è una specie e qui c'è una specie di portachievino che può attaccare magari anche la cartella o la scuola attaccata in questo blocco non so se si sia riga quadretti come sia non si sa però è molto carino adesso mi ha perso credo che costi 3,99 adesso ve lo dico sì book 3,99 poi abbiamo preso io gli ho preso anche la penna questa qui credo che costi anche quella uguale forse si penna 3,99 che è così scrive qui scrive da questa parte e sopra c'è questo gattino che hai visto Angelica? che giro è un gatto unicorno spero che sparaflescia non si riescono neanche a vedere bene i colori spero che proviamo a spegnere la ring light se non ci fa troppo luce ecco se si vedeva a vedere con la ring light spenta carino poi va bene non fa niente poi Angelica per 4,99 ha scelto un unicorno che sarebbe un portachiavi unicorno si una specie di portachiavi super unicorno è gommoso con la scritta in rilievo carino sono molti rifiniti bene non è gommoso sembra gommoso senti qua si che è gommoso no qua è di plastica dura infatti sarebbe sempre di questo unicorno un po' più si vai a mettere la tua cameretta gli organizer dai poi c'è questo gancino per eventualmente se uno vuole può attaccarlo alla cartella oppure insomma un po' vedrà lei l'utilizzo da fare e qui c'è un farfallino un fiorellino un decorino e qui c'è il bellissimo unicorno è scelto proprio bene è veramente veramente bello è scelto il più bello che c'era là secondo me veramente veramente carino ecco queste sono le tre cosine che abbiamo preso alla bimba giusto per fare un presentino una merenda è una festa di compleanno ma in realtà non c'è la festa che dura ore è una merenda venerdì e dopo sistemiamo un po' la confezione sperando che ci sono i prezzi no ecco dopo chiuderemo bene ci facciamo un fiocchetto al genere che gli farà un bel bigliettino di auguri la richiederemo un posto così comunque sono molto belli adesso non so dove ho dibossitato tutto volevo farvi rivedere con la luce ecco con la luce così dove hai messo l'altra borraccia Angie ma la lavo io dopo vieni qua la sto lavando in bagno ragazze allora io non so se il video vi sia piaciuto o no se vi è piaciuto mettete un like condividetelo anzi non condividetelo perché dove l'hai messa in bagno in bagno si lava in cucina la borraccia vabbè non sapone dove hai messo il sapone ma lasciala là allora che sgoccia vado a lavaggela perché mi darà tormento finché non ci potrà bere quindi mi stavo dicendo lasciate un like un commento fatevi sapere se esiste anche da voi questo negozietto che è il negozio della perdizione abbiamo già visto 7800 cose che ci piacciono che ci piacciono e niente vi mandiamo un bacione saluta ci vediamo presto ok ciao 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 ciao